Lo Spirito sul Messia I profeti annunciano che lo Spirito scenderà e riposerà sul Messia e in Lui farà rifulgere tutti i Suoi doni. Avrà la sapienza e l'intelletto come Zelalel e Salomone, in consiglio e la forza come in Davide, la scienza e il consiglio come nelle grandi anime religiose di Israele. Isaia annuncia Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di Lui si poserà lo Spirito del Signore, Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di conoscenza e di timore del Signore. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà ai prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore. Secondo il profeta Isaia, il Messia è l'eletto Servo del Signore, sul quale si posa lo Spirito del Signore. Ecco il mio Servo che io sostengo, il mio eletto in cui mi compiaccio, posto il mio Spirito su di Lui. Si sa che il Servo del Signore è rivelato come il Servo sofferente, il Messia sofferente per i peccati del mondo. Egli è colui che porterà la salvezza per l'intera umanità. Egli porterà il diritto alle nazioni e diventerà l'alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Il Messia avrà la pienezza dello Spirito in sé e al tempo stesso lo donerà agli altri. Nel Messia ci sarà la pienezza carismatica e la pienezza santificatrice dello Spirito. In Gesù tutto sarà opera dello Spirito.